La giornata inizia presto, per il team di installatori, mentre si preparano per il montaggio degli infissi monoblocco a Benafro. Ogni dipendente ha un compito specifico e si impegna al massimo per assicurare un montaggio perfetto. Nonostante le sfide che possono presentarsi durante il processo di montaggio, il team affronta ogni situazione con determinazione e professionalità, assicurandosi che il risultato finale sia di alta qualità e soddisfi pienamente le aspettative dei clienti. Verso il tramonto, il lavoro di montaggio giunge al termine e il cantiere viene ripulito con cura.